Arrivare alla mia età e non aver mai provato Roblox è come dire non aver mai provato le gallette di... Signori, è il momento di entrare nel meraviglioso mondo di Genshin Impact, ma quello di Roblox. Mi ha detto di guess, hobby. Che cos'è hobby? Che cazzo è sta roba qua? Non lo fare, non buttarti. Mi ha tradito. Tronza. Ihisa, va a fa' culo. Addio. Sono rotto di starti a ascoltare, di starti a presso, te le tue cazzate. Sto veramente saltando sopra Paimon. Sto calpestando Paimon. Non ho parole. È un momento bellissimo. Forse devo saltare sul rullo. E comunque noto con piacere che ci sono altre persone che stanno provando sta cosa malata. Bene. Bello che sei. Kayan made a joke about my family again. Take revenge for me, please. Cazzo sì, lo spacco. Arrivo. Mi prego cavatevi gli occhi. Sto saltando col pisello. Non sto toccando con i piedi. Che cazzo è una pentola? Qua c'è della fantasia però, eh. Qua c'è della fantasia. Il bubble tea. No, comunque... Oh, questo... Questo mi sta divertendo. Perché comunque c'è della fantasia qua. Tempo per abisso. Clicca 20 per teletrasportarti. Mega. E' da sport. Oddio. Lì ci sono due child uno sopra l'altro. Ok. C'erano le scale, coglioni. Questo è un altro che ha avuto... Non è io e miglia qui. Non è vero. Questa è una piattaforma mobile? Ok, sono radioattivo. No, è fantasia. Questi fanno ridere. Questi sono molto carini. Mettetela di mettereci. Wow, congratulation. Come ho vinto? Ho vinto? E' finita? E' finita? Madonna, raga. Finalmente pull. Finalmente pull alive. Chi cazzo sei tu, Aya? Levati. Questo è il muro di ritrovo per simulare il sistema di idee. Dirigiti verso l'inferno. Gaccia inizia. Chat vocale abilitata. Baffanculo. Non è un banno vero e proprio. Stai andando per scopi di test. Bastano cinque personaggi stella. Ok. Wish. Che cazzo me ne faccio di un cane? Oh, è un dogue, vabbè. Dogue. 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 Purple dogue. Voglio un cinque stelle. Dammi un dogue e cinque stelle. Di più. Di più. Più cani. Diluc. Di. Ma è una stella. Dove cazzo è il mio Diluc? Vabbè, ha una stella. Una stella. Non riuscirò più a cliccare tra poco. Troppi cani. Ma dai, davvero, ragazzi, due full pt. Ma veramente. Ma non puoi darmi la nuova. Niente. Devo provare. E' scriptato, ragazzi. E' scriptato per il cic. E' scriptato per il 90. Infatti, cazzo di cani ci sono. Oh. Ma questo è figo. Cioè, praticamente, da quello puoi entrare ad altri shrine. E' semplicemente un posto dove tu ti siedi e veneri una low pixel. Io e miglia con il suo arco. La ciccia e una primogen. E' morto. Però i vicoli sono fighi. Piscina. Ok. Ehi, bambola. Vuoi vedere un pesce? Questo. Guarda quanti. Quattro. Prima o poi tornerai tu da me, non io da te. Voglio andare via da questo posto. Mi sa che è un incubo. La mia anima è corrotta. Necessita di redenzione. Dov'è Diluc? Datemi un Diluc. Diluc! Ah, questa è la taverna. Buonanotte. Buonanotte, Akai. Tu saresti Diluc. Scusami. Vado a cavarmi gli occhi. Torno tra poco. Cioè, è un tempio dove c'è solo roba di scaramuccio. Cioè, io devo entrare qua per idolatrare il dio. Cioè, no, seriamente. Cioè, io entro qua e qua c'è solo roba di scaramuccio. Oh mio Dio. Mi sento. Cioè, seriamente io sto pregando scaramuccio? Non ho parole. Cioè, io mi metto qua e prego. Non ho parole. Ma raga, ma veramente c'è il suo? Non ho parole. Oddio, ma che cazzo è successo? Perché sono diventato anch'io come scaramuccio? No, 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 no. Ma perché? Non ho parole. Quello è carino. Oddio, sono diventato come scaramuccio. Sono cursato. Però mi affascina questa immagine. Cioè, questa immagine è fichissima, ragazzi. Questa immagine... Questa immagine... Questa immagine... Smash. Basta! Qua dentro mi sta corrompendo questo luogo del dispiacere. A posto, raga! Ma siamo seri! Oddio, ci rivedo. No! Fai via, allontanati dalla mia vista, mostro. Mostro! Perché c'è un Magus? Cici, muori! Cioè, nel senso, rimuori. Risuscita e rimuori! No, raga, io qua ci devo fare assolutamente un video su sta roba, guarda. Cioè, non l'avete capito. Via, sto posto è orrendo. Basta. Ok, cosa c'è in Genshin... Survive Genshin in Area 51. C'è un piede. Oh, che cazzo è un T-Rex? Oh, cavolo. Mmm. Questa chi è, scusami? Vabbè, vabbè. Allora, prima cosa. Perché c'è un T-Rex? Con una Barbie in bocca. No, i piedini no! I piedini no! No, i piedini no! Vi prego! Che schifo! Buongiorno! Vorrei un Happy Meal. E un... Una Coca-Cola... Una Soft Drinker. E un McFlurry alla fine, perché il cagotto mi piace completo. Ok, ma c'è un gioco? Posso fare qualcosa? Tipo, se io arrivo qui, no? Suono. Fast Music. No, voglio uscire. Ok. Ma mi usci... Ok. Qua c'è un... Una roba rossa. Che mi ha ucciso. E sono risponato. Qua è seccato. Qua ovviamente è seccato. Muoio, no? Ok. Adesso. Attenzione. Un cane. Ok. Dove mi... Dove mi... No! No, 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 no. No, 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 no. Via. No! Vi voglio riprovare a sopravviverla sotto, scusate. Ah ma ce n'è altri dopo Ok vabbè ma posso provare a scappare Ok E no poi non puoi più scappare Perché sono troppi Forse Forse fugo Ok no È stato bello Che scivipac quiz Io mi I cubisti Indovina i personaggi Cazzo c'è C'è il transgirano Eh come fa Chat Amber Amber Ah ok Va uva L'hai fatto Va va fa culo va Genshin Impact Online hub Ci sono 12 persone Voglio andare voglio parlare con sta gente Che cos'è la online hub Che cazzo è sto luogo Ok Nilu, Kino e Kandake sono state aggiunte La mappa teleport Che cazzo è sto posto E cos'è sta roba qua davanti Gioca Gioca Ok È una chiesa Va bene Entriamo nella meravigliosa chiesa Musica Musica Dino ti sei mangiato un dinosauro Dino hai mangiato anche tu le gallette di No No Ayaka Sì Ayaka Ok Ok Attenzione c'è un Diluc che si arrampica Tu saresti Diluc Ho deciso Un succo di frutta per favore Vabbè vi lascio in questo momento fratello Che non voglio disturbare A posto C'è la tensione nell'aria Oddio Voi vedete Cosa c'è nel quadro Ok Va bene Ma perché io sto in questa posa plastica Ok Qua sopra non c'è niente Apparentemente Va bene Va bene Va bene Ho capito Sto posto è un posto un po' strano Dove c'è gente che vaga E non ha idea di quello che sta accadendo Ah Se che Ah ma posso cliccare il menu Shop Che cosa potrei Ah I soldi No Personaggi Ah posso cambiare il mio personaggio Perché lei è così Non ha trovato i PNG Voglio Nilo Dov'è Escape Dov'è Escape Perché non lo vedo Escape Oh Escape Perché c'è una palla con gli Emilia dentro Un Diluc schiacciato e blendato Oh Mio Dio Oh My goodness Ok Dove sono Finito No Quel salto non è fattibile Era fattibile Era io che In questo Madonna Quanti Ma dove era il book Parkour Ok Esco dalla macchina E via Verso l'avventura Come veicolo Che veicolo Un'altra Un'altra macchina Che cazzo serve la macchina allora È un posto inquietante Perché lascia una pistola Perché Dovrei sparare Mi prego Basta Fatemi uscire Di qui Perché Andiamo E una volta qui Cosa dovrebbe accadere Una volta che vado E faccio il giro Sparo Sparo Ah sparo dove guardo Ok Quindi io guardo lì Perché sei un blocchetto rosso Cos'è che mi rappresenta Che cosa dovevo È finita Cioè è finito così Questo luogo Oddio Santissimo Io non ce la posso fare Ma chi è che gli ha dato 363 voti Genere come Signori Signori Apparentemente il mondo di Roblox È un mondo che io non comprendo E che fa parecchio paura Io non Vi invito A non entrarci Perché potreste scoprire cose Che sono potenzialmente Molto pericolose E potrebbero rovinarvi L'esperienza Detto questo Io vi ringrazio Per la vostra cortesia Attenzione Non so se questo video L'ho dato a Tino Per farlo montare a lui Perché è troppo per me Non ce la farei Detto questo Io vi ringrazio E vi auguro una buona serata United State Obserca Ciao belli I'm so happy I'm so happy I'm so happy I'm so happy I'm so happy